Buonasera, buonasera ovunque voi siate, grazie ovviamente per l'attenzione che ci manifestate sempre. Topic, l'approfondimento giornalistico quotidiano per entrare nel merito di quelle che sono le notizie più importanti. Una cosa che voglio fare in questo spazio di approfondimento oggi, vedete già con me in studio Giuseppe Ursino, CEO di Joe Consulting, intanto grazie Giuseppe per essere con noi. È un piacere per me. Perché c'è la sua figura professionale? Perché vedete ci sono arrivate anche da parte vostra delle richieste di delucidazione su un fatto importante. Perché si continuano a perdere fondi? Fondi che provengono dall'Europa, che provengono anche dal governo. Insomma c'è un rallentamento di cui dobbiamo tenere conto in Sicilia. Cosa manca per far sì che questi fondi possano arrivare e realizzare anche tanti sogni nei vari cassetti? Ecco, di questo vorrei parlare approfonditamente in questo spazio perché facciamo cadere, come si suol dire, il velo. Perché i siciliani non riescono ad avere i giusti fondi che sono messi a disposizione? Seppur sì. Sì, proprio per questo motivo, per utilizzare al meglio i fondi europei, domani alle ore 9.30 iniziamo con un welcome, offriamo una prima colazione all'hotel Catania Centro, nel NH Catania Centro a Catania e nel mentre sarà possibile, dalle 10.15 in poi, seguire questo evento a livello di streaming su YouTube, sulla pagina YouTube del GeoGroup, sulla pagina di GeoConsulting su Facebook, sulla pagina di GeoConsulting su LinkedIn e proprio l'argomento saranno i fondi europei. Come utilizzare al meglio i fondi europei? Abbiamo col progetto Reference, che è un progetto finanziato dalla Commissione Europea, dalla DG Reggio della Commissione Europea insieme ad altri partner di cui noi siamo capofila, Lituania, altri partner europei insieme a noi hanno creato questo ecosistema che si chiama Reference, nel quale sono approdate, cioè caricate tutti i bandi di finanza agevolata. Questa è l'immagine per l'evento di domani, dopo abbiamo coinvolto anche un'associazione datoriale, la ConfCommercio, affinché anche i suoi membri dell'associazione possano avere più informazioni sulla finanza agevolata, e la MyFund App, che è un'app sviluppata dal GeoGroup a supporto della GeoConsulting, è un motore di ricerca che ti permette di avere tutte le informazioni sui bandi attivi, oppure su quelli che hanno già avuto una conclusione, ma che probabilmente potranno avere una riapertura e quindi conoscerli può essere sempre utile. E si può fare una ricerca per tipologia di investimento, di menzione aziendale, profilo cittadino, che può essere per le donne, oppure per giovani, oppure per il mondo degli start-up, tramite un motore di ricerca alla sopra è possibile fare anche una ricerca ad hoc per quelle che sono le proprie esigenze. MyFund App è proprio una di quelle innovazioni che va nella direzione di far utilizzare i fondi a tutti, la possibilità a tutti di utilizzare i fondi. Ma da un'attenta analisi che tu fai, sei sul territorio, viaggi molto, giri l'Europa e ti rendi conto, tocchi con mano quelle che sono le probabili differenze, ma perché in Italia, in Sicilia poi in particolare, c'è questa forma di ostracismo legato soprattutto all'incompetenza di chi è preposto per far sì che questi fondi possano arrivare a disposizione delle aziende. Per evitare un problema di non conoscenza delle opportunità, la trasformazione digitale, questa web app, può fare da ponte, da bridge, perché a volte si si ha di un'opportunità in ritardo, perché le finestre temporali sono spesso 60-90 giorni, ma se lo vai a sapere solamente pochi giorni prima della chiusura del bando, non ci arrivi, perché devi operare la documentazione, occorre avere un supporto dal punto di vista anche descrittivo, quindi sapere le cose per tempo è molto utile e occorrono strumenti digitali. La MyFunds app della Geoconsulting e del progetto Reference va in questa direzione. Ecco, possiamo dire tra l'altro che il convegno di domani diventa quasi una sorta di scuola, una classe dove c'è gente con grande esperienza internazionale che si mette a disposizione la propria esperienza per far sì che possa chiaramente cambiare il trend. All'interno del termine fondi europei esistono due tipi di fondi europei, fondi nazionali e fondi diretti. I fondi nazionali, che poi sono per lo più i fondi strutturali, sono gestiti da ministeri e regioni, ed è volendo più semplice, nel senso che sono in italiano, in Italia speaking, e l'interlocutore è la regione, l'interlocutore è il ministero. Poi esistono i fondi diretti, quelli gestiti dalla Commissione europea, in lingua inglese e spesso in consorzi internazionali. In questo caso occorre avere già una visione di insieme un po' più larga rispetto a chi utilizza solamente fondi strutturali e bisogna poi sapere parlare in inglese. Le opportunità a livello europeo sono incredibili, però bisogna avere tutto un packaging, cioè una presentazione, una capacità di interlocuzione che è più alta, l'asticella è più alta rispetto a quella dei fondi nazionali. Tutte e due sono dell'ottima opportunità, il success rate, cioè la capacità di vittoria dei fondi nazionali è più alto perché è minore la competizione, mentre a livello europeo si compete con i 27 paesi di tutta l'Unione europea, più i paesi associati, però se si vince è una soddisfazione perché si interlocuisce a livello internazionale. Su questi mondi fondi diretti e fondi diretti noi da 26 anni siamo leader, quindi facciamo questa attività con piacere e con successo da 26 anni. Ecco, una domanda che potrebbe essere quella che ti pongono anche i nostri telespettatori, ma noi parliamo di fondi che possano servire al privato, all'azienda piccola, media, grande, insomma azienda che possa entrare in un mercato diverso, insomma creare i presupposti per riuscire a cavalcare l'onda di qualsiasi tipo di impegno strutturale, ma la regione per esempio, che spesso dice, sentiamo sempre amministratori che lamentano il fatto che non ci sono fondi per, che so, aggiustare una piazza, ristrutturare una chiesa o mettere nelle condizioni di fornire dei servizi che possono essere essenziali legati alla sicurezza e tant'altro. Possono anche loro avere un canale preferenziale per far sì che questi fondi possano arrivare? In passato abbiamo anche aiutato gli enti locali a utilizzare al meglio i fondi. Ricordo per esempio che il primo impianto di geotermia in Sicilia è stato finanziato dal Ministero dell'Ambiente alle tuoi anni e ha utilizzato fondi nazionali, però il problema di fondo è avere all'interno delle entità del settore pubblico degli staff con un livello di qualità del lavoro, di coinvolgimento, di competenze, di motivazione spesso un po' più alto della media, perché quando si è in competizione con altri perché sono delle gare o sei bravo o non vinci e siccome nella pubblica amministrazione si è monopolisti, quindi non c'è stata la tensione all'eccellenza, questo ovviamente non aiuta all'evoluzione migliorativa delle nostre mani interne, quindi bisognerebbe lì dentro fare un lavoro di redesign, probabilmente anche coinvolgendo delle nuove leve dei giovani, per potersi concentrare, avere un focus sull'utilizzo delle opportunità dei fondi strutturali e volendo anche dei fondi europei, perché a volte a noi capita, anche nei fondi diretti, quelli internazionali, avere delle pubbliche amministrazioni, abbiamo lavorato per esempio col Ministero del Lavoro francese, abbiamo lavorato con delle municipalità, ecco si può fare, però bisogna avere una visione di insieme che spesso non c'è stata almeno fino ad oggi nella pubblica amministrazione locale. Ecco, pubblica amministrazione locale, ovviamente parliamo anche di quella regionale, insomma in senso lato di quella regionale, è chiaro che in punta di diritto la cosa fondamentale da sottolineare è che ci vogliono le competenze, perché chi si assume la responsabilità di portare avanti dei progetti senza avere le competenze fa un danno all'intera collettività, quindi riteniamo opportuno pensare che ci possa essere, ci debba essere la volontà delle amministrazioni che aprono una visione di sviluppo nuova, puntare ai giovani, come si è detto, perché diciamo il mare magnum degli investimenti oggi è legato molto alla tecnologia, all'innovazione, quindi il mondo giovanile è più portato, perché come si dice spesso i nativi digitali sono quelli che in linea di massima sono più pronti ad accogliere e ad inventare quel qualcosa in più che, come orgogliosamente degli italiani, abbiamo sempre fatto rispetto ad altre realtà internazionali, quindi bisogna basarsi molto anche su questo. Secondo me nei progetti di ricerca e sviluppo cercare di creare delle sinergie, delle alleanze con il mondo universitario. Il mondo universitario è fondamentale. Il mondo universitario deve essere anche un volano del know-how nelle small business, nelle piccole e medie imprese, quindi oltre al rapporto che si può avere con il grande player made in Catania, l'ST, Microelectronics, che in ogni caso già viaggia per i fatti suoi e quindi lo supporto con l'università ci può stare, ma non è essenziale per loro. Secondo me un attore dello sviluppo deve essere anche questa sinergia forte tra mondo universitario, ancora più di oggi, e il mondo delle imprese. Facciamo anche un attimo, sta per arrivare una rivoluzione enorme, quella di cui si sente parlare ma ancora si vede poco rispetto a quello che si vedrà in futuro, dell'intelligenza artificiale. Questa per tutti gli ecosistemi può essere un momento di grandi opportunità ma anche un momento di grande crisi, quindi è fondamentale svolgere al meglio la propria attività nel mondo della pubblica amministrazione, dell'università, delle imprese per cogliere tutto ciò che può arrivare di opportunità da questa rivoluzione che sarà una rivoluzione molto simile a quando arriva del web, cioè cambierà tutto il paradigma. Quindi cavalcare e diventare in grado di capire dove va il futuro diventa un'opportunità anche per i territori un po' più deboli come può essere il siciliano che spesso arranca. Quindi il rapporto diversità, imprese, la volitività che spesso ha avuto il cavallo del catanese nel passato e forse un po' in parte nel presente per salire su questa nuova onda della rivoluzione digitale intesa come intelligenza artificiale, secondo me sarà un volano di grandi opportunità. L'intelligenza artificiale ormai è già in essere perché già lo sappiamo ci accompagna, tanti la utilizzano, male alcuni però alcuni la utilizzano meglio, il futuro è questo, il futuro è tecnologia e innovazione. Io volevo farti un'ultima domanda perché il tempo a nostra disposizione si sta assottigliando sempre di più. Volevo chiederti, ma nel comparto noi siamo al centro del mondo per il discorso dell'agricoltura, tra l'altro in questo periodo c'è parecchia maretta legata a questo comparto, agricoltura e pastorizia, ma nel contesto europeo al di là delle famose promesse che spesso non vengono mantenute, a oggi la Sicilia con questi bandi che ci possono essere riesce, potrà riuscire a scalare delle posizioni che sembrano perdute? Dipende sempre dalla mentalità. Prima di questa intervista, di questa nostra chiacchierata parlavo, mi vedevi parlare in inglese perché c'è in questo momento in corso una videocall su un progetto Agritec con l'Università Serba, con il Dipartimento di Agricoltura dell'Università Serba di Belgrado e quando finirò questa nostra intervista tornerò lì in videocall. Quindi qual è il ragionamento? Anche nell'agricoltura bisogna utilizzare al meglio la cosiddetta agricoltura di precisione col satellite, l'IoT e quindi la sensoristica che oggi ha anche costi bassi, per il tracciamento con la blockchain, visto che il nostro food è il top a livello mondiale come qualità, per noi tracciarlo è un vantaggio, noi non abbiamo bisogno di confondere le carte, noi abbiamo bisogno di dire che questa è stata prodotta alla piana di Catania perché per noi vuol dire qualità. In tutta questa rivoluzione digitale l'agricoltura potrebbe, dovrebbe giocare un ruolo più forte. Benissimo, siamo arrivati alla fine di questo spazio di approfondimento giornalistico, io vi ricordo come sempre le nostre coordinate per raggiungerci, redazione chiocciolaspazionotizia.it per segnalarci anche problematiche che volete approfondire e ovviamente noi torneremo domani. Posso ricordare domani, domani 9.30, Hotel Catania Centro, Gio Consulting organizza per il progetto reference della Digireggio un modello TED e tutto durerà solo due ore, quindi molto veloce e sulla finanza agevolata. Grazie, grazie a Giuseppe Orsino, CEO di Gio Consulting, grazie a voi per averci seguito, appuntamento domani sempre con Topic. Grazie a tutti.